Scuole aperte o scuole chiuse tra i genitori e già psicosi. Da un lato chi pensa che le classi siano i posti più sicuri per i piccoli poiché sottoposte a controlli continui e dall'altro chi pensa invece che all'interno delle scuole ci sia maggiore probabilità di essere contagiati e che quindi vorrebbe la chiusura totale. In mezzo i dirigenti scolastici che in queste settimane cercano in qualche modo di fare da argine alla più o meno legittime paure dei genitori e naturalmente i bambini che rischiano di essere travolti dal panico diffuso dagli adulti. Questa mattina alla Nicholas Green due fazioni di genitori a debita distanza hanno esposto le loro convinzioni. Un gruppo di mamme ha deciso di non portare i bimbi a scuola perché preoccupate da presunti contagi all'interno dell'istituto di via Borromini. In questa scuola purtroppo ci sono vari casi non è vero che non ci sia nulla ci sono dei casi in cui i bambini sono risultati positivi ma che ieri mi è giunta voce che gli altri ragazzi che sono in attesa di tampone continuano a frequentare la scuola e mi sembra una cosa da non dover fare. Questa è una voce che avete voi e basta o eppure avete avuto conferma anche dalla preside? Io con la preside non ci ho parlato, io non ci ho parlato, non l'abbiamo nemmeno vista. È una cosa che stiamo vivendo qua. Siamo forse noi genitori sbagliati a far uscire i bambini e non fargli prendere le giuste precauzioni ma il covid entra dentro le scuole e purtroppo lì dentro ci sono anche i nostri figli. La soluzione dunque per voi è chiudere la scuola? Per il momento penso di sì perché i casi sono tanti. Situazioni di pericolo immediatamente e categoricamente smentite dalla dirigente scolastica. Non mi risulta ad oggi avere nessun caso a scuola positivo. Qualora ce ne fosse saprei cosa fare perché esiste un protocollo che noi stiamo cercando di applicare alla lettera e questo protocollo richiede che tutti gli alunni siano distanziati, tengano le mascherine, siano frequentemente portati in bagno per igienizzare le mani. C'è questa difficoltà da parte dei genitori ad accettare la mascherina, ad accettare un po' che in questo momento si debbano rispettare le regole. Non abbiamo casi positivi, non abbiamo focolai. Abbiamo qualche insegnante posto a casa, che rimane a casa perché è proveniente dalle scuole di Niscemi e sono insegnanti che non sono entrati nelle nostre scuole. Quindi io sono serena. Martedì e mercoledì abbiamo provveduto a far fare una sanificazione in alcune classi perché siamo venuti a conoscenza di qualche situazione di familiare a casa positivo. Allora non avevamo avuto diciamo i bambini nelle ultime 48 ore, avremmo potuto anche non farla la sanificazione, ma per ulteriore scrupolo abbiamo preferito in alcuni ambienti in modo particolare appunto procedere con una sanificazione. Ma non tutti i genitori la pensano allo stesso modo. Diverse mamme infatti stamattina hanno fatto entrare regolarmente i bimbi a scuola. A scuola non li vogliono portare, ma poi sono in giro con le bici, vanno a calcetto. Se io non mando mia figlia me la tengo a casa, vado al supermercato me la devo portare. Se devo sbrigarmi qualcosa in banca o in giro me la devo portare. A chi la lascia? Noi abbiamo visto una preside che è riuscita a mantenere una situazione di calma e di consapevolezza. Ci ha sempre informati di tutto quello che andava fatto, di quali sarebbero stati i protocolli da seguire. I nostri ragazzi sono molto sereni, il corpo docente è informato, quindi non riteniamo che ci siano ragioni per cui l'attività scolastica debba essere sospesa. La dirigente poi ammonisce i genitori che al momento starebbero pensando di non mandare i figli a scuola. Ricordiamoci che dalla prima primaria alla terza secondaria, quindi alla terza media, siamo nella fase dell'obbligo scolastico. Per quanto riguarda i ragazzini di scuola media, qualora non facessero i due terzi dell'anno scolastico, non sarebbero ammessi all'anno scolastico successivo. Chiedo ai genitori di avere anche la responsabilità e l'accortezza di non fare inviciare l'anno scolastico ai propri figli e di stare sereni, perché se dovesse esserci un problema di contagio sarei io la prima a fare in modo che i genitori sappiano perché la scuola va sanificata. Ma ad oggi non è così, quindi bisogna stare sereni.